Cioè no, io ero lino, ho visto in frigorifero che c'era praticamente un po' di latte. Allora le patate lesse ho fatto un bel purino, mentre ora praticamente sto mettendo delle linguine. Come le condirò, visto che dice un po' di pregatoria di sera e di qua praticamente ho preparato degli imbultini senza la mortadella. Come fare? Beh qui intanto mi sono fatto il caffè per il dopo partita, mentre qui appunto ci ho grattugiato un po' di cuore di tonno e ora provvederò mentre a Empoli ho comprato delle olive, le ho fatte schiacciare. Niente, ora vedremo di vedere, già questo sarebbe abbastante per buttare giù le linguine e farle saltare il latte e cuore di tonno. E ci manca, ci manca nulla.